Con la consegna del premio Foglia d'oro Manetti Battiloro al film Anicolère di Blandile Noire, La foglia d'oro del pubblico, La gran magie di Noemile Voschi e La foglia d'oro dei giovani alle Tiraillères, film storico con Omar Sy che si è giudicato anche il premio Miglior Colonna Sonora conferito dalla cantante e produttrice Caterina Caselli, il premio Regarde Mediterraneen a Bayacasmip e Youssef Salem a Dussusset si è conclusa il primo novembre al Cinema La Compagnia la quattordicesima edizione di François de Hon, il Festival del Cinema Francese di Firenze. La serata di chiusura è incominciata con lo scoppiettante arrivo di Drusilla Foer nel Cinema La Compagnia a bordo della Moto Guzzi del Festival ed è proseguita con la sua effervescente conduzione sul palco a coronamento di un'edizione ricca di anteprime, protagonisti del cinema francese intervenuti a Firenze. Come la musa di Jean-Luc Godard, Nathalie Baye, Marie-France Brière, regista del documentario sull'assassinio di Troschi, sulle pa di celui che attuè Troschi e Ramon Mercader, il regista Emanuele Mouret, presente insieme a Sandrine Chiberlain e Vincent Macaigne, i due interpreti del film Chronique d'une lésion passegère e ancora due registe, Sylvie Vereide e Noemile Boschi, che sono intervenute sul tema della relazione tra la cinematografia francese e quella italiana. Nel film Passion Cinema di Francesco Ranieri-Martinotti si afferma che il cinema francese è molto preciso, razionale, completamente studiato a tavolino, mentre quello italiano è più basato sul disordine, il genio stemporaneo e il caos. Cosa pensa di questa affermazione? Allora, moi, j'ai plutôt di côté felligni. Per quello che mi riguarda io sarei piuttosto sul lato felligniano e del caos, devo dire. Mi piace molto creare, ma preparare con molta minuzia per lasciare poi arrivare il caos. Io ho fatto cinema, sono originaria di un ambiente molto molto popolare, ho iniziato il cinema con un aspetto legato al documentario e ho sempre trovato che nel cinema francese era un cinema molto borghese e che invece i miei riferimenti erano molto più italiani. La povertà non era vista con una certa distanza nei film italiani, non erano necessariamente tristi i personaggi poveri, anzi il ridere era un modo per poter affrontare la povertà, nella commedia all'italiana in particolare e quindi io penso e ritengo di essere molto influenzata da questo tipo di cinema. Nel film di Francesco ero molto vicina a quello che sentivo dire da Fanny Ardon, mi ritrovavo in quella necessità di cui parlava di quel disordine dolce, di questo caos dolce. Sono stata anche un po' stupita di non sentire in nessuno dei intervistati un riferimento a Rossellini, ho l'impressione di aver imparato così tanto nei suoi film, imparato a diventare adulta, imparato a vivere grazie ai suoi film. L'appuntamento con Franz Odeon è per il 2023, quando si festeggeranno i 15 anni di un festival molto amato e apprezzato dal pubblico italiano.